Un problema che da tempo viene segnalato dalla cittadinanza vadese è quello del degrado dei parchi gioco, in particolare dei giardini Baden-Powell in via Monsignor Cavanna. La causa è il vandalismo, avevano spiegato dal comune, che in alcune occasioni intervenne per ripulire l'aria, inutilmente, perché dopo poco tempo tutto ritornò come prima. Adesso però il Palazzo Delfino pare e vuole intervenire seriamente per risolvere il problema. Lo farà avviando un progetto di riqualificazione che coinvolgerà anche i comuni di Molare e Tagliolo Monferrato, Carpeneto e Montaldo Bormida, con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, utilizzando le risorse del PNRR. Dell'iniziativa si è discusso nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, ed ora se ne parlerà nell'apposita commissione. Naturalmente il restyling non riguarderebbe soltanto l'aria giochi Baden-Powell e la diacente pista di mattinaggio, ma anche altre zone verdi di Ovada, dai giardini di Via Nuova Costa all'aria diacente allo Story Park, naturalmente al centralissimo Parco Pertini. Per quest'ultimo la città di Ovada aveva già aderito ad un bando emesso dal Ministero della Cultura per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, ma anche dall'Unione Europea, grazie al Fondo per la Ripresa Post-Pandemia Next Generation EU. La cifra per gli interventi sul Parco Pertini ammonta circa 340 mila euro, comprende il rifacimento di stradine e camminamenti con materiali donne e disabili, il rifacimento della Fontana Centrale, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, valorizzando il patrimonio arborio e creando anche un'area da adibire ad eventi e esposizioni artistiche a congressi. Il Parco di proprietà fino al 1997 delle Madri Pie, poi passato al Comune, ha un grande valore storico, come lo è quello di Villa Gabrieli, questo di proprietà dell'ASL, che sta già prendendo nuova vita grazie al volontariato. Sul Pertini e su altre aree verdi cittadine punta all'amministrazione comunale, che però si ripromette una lotta assennata contro i vandali. Sarebbe un peccato vedere vanificare l'opera di rinnovamento a causa di persone incivili che non hanno a cuore il bene pubblico.